Dopo poco più di due anni di permanenza, Ruggero Borzacchiello lascia Isernia. Dal 1 agosto andrà a dirigere la questura di Chieti. Al suo posto, proveniente da Reggio Calabria, arriva Roberto Pellicone, fresco di nomina questore. Borzacchiello si è già informato sulle nuove sfide, sicuramente più impegnative, che lo attendono nel capoluogo teatino, ma l'esperienza maturata a Isernia li tornerà senz'altro molto utile. Ad esempio, il potenziamento dei controlli sul territorio ha permesso di triplicare il numero di arresti e di condurre in porto operazioni importanti di cui si è parlato anche a livello nazionale. La liberazione della donna segregata in casa da tempo, abbiamo sgominato un'organizzazione composita di soggetti dediti all'usura e all'estorsione, abbiamo fatto uno dei più ingenti sequesti di sostanza stupefacente a Venafro, con anche sequestro di numerose armi, munizioni e quant'altro. In questi due anni Borzacchiello ha dovuto affrontare anche l'emergenza migranti. Non sono mancati momenti difficili, come quello di una maxirissa a colpi di spranga in un centro d'accoglienza a Isernia, ma tutto sommato grossi problemi non ce ne sono stati. Tutto sommato abbiamo cercato di mantenere sempre nei limiti dei rischi quello che poteva essere della convivenza di immigrati sul territorio perché c'è stato un punto di massima l'anno scorso con la presenza di quasi 2000 immigrati ed essere riusciti ad evitare situazioni di conflittualità che potessero poi generare altre problematiche diverse da quelle che sono alla nostra attività. È stato anche un lavoro notevole. Infine un appello alle istituzioni, sia abruzzesi sia molisane. A suo avviso per un controllo più efficace del territorio è necessario attivare o comunque potenziare sistemi di videosorveglianza. Riguarda non solo la sicurezza in sé per sé ma anche la vivibilità di una collettività perché avere un occhio vigile per strada è fondamentale. Fa da deterrente in primo luogo e in secondo luogo ci dà la possibilità di poter risalire a quelli che sono gli autori di quei reati che poi sapete bene suscitano anche un po' di clamore, di insicurezza nella collettività.